Le ditte che hanno lavorato per questa terrazza, la ditta metto intorno a C.D. Matassino che ha messo tutto l'impegno, voglio dire, per fare questa bella opera, perché è un'opera bellissima. Poi ci sono impegnati, hanno mantenuto la data e tutto, hanno lavorato il sabato, la domenica, ma veramente è stata una ditta eccezionale e la ringrazio. Ecco qui, questo è il fratello di Patrizio. Poi ringrazio il nostro elettricista Bardi Simone che ha fatto tutto l'impianto elettrico. Lui ha rispettato i tempi, veramente bravi. Poi ringrazio il direttore dei lavori, l'architetto Simone Baci che ha seguito tutto l'ite della pedrazza dei lavori, tutto dei giunti, e anche lui sempre presente, lo ringrazio. Poi voglio ringraziare l'amministrazione, il gruppo misto, quelli di Trochi che sono venuti, mi hanno fatto molto piacere. Quello di Cogliari ha problemi perché Ciascone e Torori non è potuto venire, però ci ha mandato un saluto. Mi ringrazio anche lui. Ringrazio l'amministrazione che è qui stasera con noi. Voglio ringraziare i soci e il volontariato perché questo lavoro, grazie a soci e a volontari. Grazie a voi.